Buonasera a tutti, grazie di cuore per aver deciso di passare un pochino di tempo insieme a noi, per tentare di comprendere come meglio poterci avvicinare a quel meraviglioso continente che è l'Africa. Io preferirei di fermarci un po' a pensare, usufruendo delle esperienze che i nostri autorevoli ospiti, quelli che ho il grande onore di avere di fianco stasera, ci andranno ad illustrare. E' un fermarsi a pensare un po' a noi, a tutti noi, considerandoci parte dell'insieme del genere umano, al di là degli schemi imposti dal contorto sistema sociale che ci sta schiacciando. Io sono Luisa Barbieri, sono stata già abbondantemente presentata dalle ragazze, rappresento l'associazione Medica Nadir e in qualità di responsabile delle attività scientifiche. Cercherò di introdurre i nostri ospiti che con molta più esperienza di me ci aiuteranno a comprendere, a comprendere meglio che cos'è questo continente, chi è la sua gente e chi siamo noi soprattutto. La nostra associazione, la Nadir, ha tentato di chiamare a raccolta altre associazioni a sostegno dell'organizzazione di queste serate dense di chiacchiere e della festa del paese multietnico che si terrà domani presso il centro sociale Giorgio Costa, al parco dell'ex manifattura tabacchi, dalle 15.30 alle 19.00. Festa che si terrà malgrado il tempo inclemente, poi domani comunque ci sarà il sole, abbiamo firmato un contratto quindi domani ci sarà il sole e quindi andrà benissimo. L'invito di Nadir è partito con una decina, 10, 20 associazioni, insomma alla fine siamo arrivati ad essere 160 associazioni e quindi è nato un grande gruppo, un grande gruppo che ha preso il nome di Insieme A. Ecco, la cosa importante è che questo gruppo non si fermi, non si fermi all'organizzazione degli eventi. noi tra l'altro eventi per i quali noi siamo molto molto grati alla provincia che è responsabile dell'iniziativa che ci ha spinto verso questa avventura. Le associazioni che hanno aderito al gruppo Insieme A, pur mantenendosi adesi alle loro radici, sono unite da una serie di obiettivi comuni e l'intento sarebbe proprio quello di iniziare un lungo cammino che ci da percorrere insieme di fatto, non solamente di nome. Un cammino volto a costruire e a vivere al meglio una società interculturale dove la diversità non rappresenti più una barriera ma rappresenti un punto d'incontro, quale in realtà è. Un cammino fatto di collaborazioni finalizzate a promuovere, a rendere concreti progetti destinati al miglioramento della convivenza. In un paese come il nostro, dove la multietnicità è divenuta una realtà, tanto gradevole quanto contrastata, contrastata da cui continua a perseverare nella cecità e nell'arroganza dettata dalla paura di ciò che non conosce, di chi non riesce a comprendere il grande valore dell'incontro della diversità o di chi lo comprende benissimo, ma nutre tutto l'interesse affinché il livellamento non avvenga, perché c'è anche questa fetta di persone. Vorrei ringraziare molto calorosamente le organizzazioni che hanno patrocinato gli eventi. La EMI, Arcoiris TV che sta registrando gli eventi e che permetterà anche a coloro che non sono presenti in sala di partecipare attraverso internet, ai frati minori dell'Antoniano che ci hanno concesso la disponibilità del teatro, alla Banca Etica, al quartiere Porto, al quartiere Santo Stefano, al quartiere San Donato, al comune di Zola Predosa, al gruppo Ollus e il Saturano, a Lega Copp, a Powerlog Minerva, al consorzio Iniziative Sociali e a Manuten Copp. Un ringraziamento calorosissimo ai nostri relatori, alla mia destra padre Alex Zanotelli, che è un missionario combognano che per tantissimi anni, 12 anni, mi pare, ha vissuto a Corogoccio, nella Bidonville di Nairobi, la possiamo definire così, e che attraverso la sua esperienza ha compreso e ci ha fatto comprendere il come e il perché sia fondamentale vivere a stretto contatto con la gente, cercando l'essenza stessa delle loro abitudini e della loro cultura per poi agire al meglio. E il professor Silvio Pampiglione, che sede alla mia sinistra, che è un medico parassitologo di fama internazionale, anche lui ha trascorso tantissimi anni in Africa e anche lui, soprattutto per noi medici innamorati del continente africano, ci ha insegnato e continua tutt'oggi ad insegnarci in quale modo proporre la medicina e non solo la medicina. C'è tanto da imparare quando si decide e si tenta di partire, si parte, per cercare di dare un aiuto, per piccolo che sia, ma che possa essere considerato un aiuto. Bisogna imparare, bisogna ascoltare, avere la forza e il coraggio di ascoltare con grandissima umiltà. Ecco, io spererei proprio che questa sera, tutti noi, uscendo dal teatro, avremo acquisito una maggiore consapevolezza. Una consapevolezza che spero ci porterà a rapportarci un po' meglio, sia al sud del mondo, sia a chi tra tanti sacrifici arriva nel nostro paese nel tentativo di migliorare la sua qualità di vita. Vorrei introdurre l'argomento Africa, partendo da un presupposto fondamentale, da noi, intendo l'organizzazione insieme a, posto quale base incontrastata degli interventi che le nostre organizzazioni tentano di operare. Ossia, solo attraverso il suo essere, l'Africa può veramente accedere al suo avere. Un avere autentico, non un avere di elemosine e di mendicità. Credo sia bene partire da un problema di identità, di dignità, e quindi di ruolo nel mondo di un continente che è stato spogliato della sua stessa storia. Senza identità, l'Africa è solamente uno strumento utilizzato dagli stranieri. Negli ultimi secoli il continente africano è stato forgiato, trasformato dalla cultura imposta dai paesi industrializzati del nord. Non ha avuto la possibilità di esportare alcun messaggio culturale. È stata costretta l'approvvigionamento di materie prime trasformate solo al nord, in beni di consumo, in beni che contengono quindi un significato culturale. Uno dei grandi problemi dell'Africa, a nostro avviso, è proprio lo scambio culturale equo, attraverso la fornitura di infrastrutture alle culture del continente. Quindi riscoprire la storia del continente africano a partire dalla sua stessa matrice è fondamentale per superare il limite temporale storico che fa risalire il tutto all'era delle colonizzazioni. La ricerca storica aveva deciso che non esisteva una storia africana e che gli africani colonizzati erano semplicemente condannati ad indossare la storia dei colonizzatori. In realtà penso che occorra partire dalle radici del popolo per arrivare all'essenza stessa della sua cultura. In altro modo altro non si ottiene che una falsificazione, con conseguente incomprensione delle dinamiche che sostengono la società africana. La comprensione della storia di un popolo chiama il futuro, incita, invita la gente a spingersi verso qualcosa di nuovo, di inedito, di non catalogato, che improvvisamente viene realizzato da un gruppo. Resta sempre un'apertura ed è su questo, ribadisco, supportata dalla conoscenza che dobbiamo agire. Siamo giunti ad un grande momento della storia umana, in quanto quando la globalizzazione è neoliberista, così com'è concepita, come il logico risultato del sistema capitalistico di produzione, del sistema supportato dalla competitività e della redditività a tutti i costi, sboccando in una sorta di darwinismo economico. Ecco, quando questa globalizzazione avrà fallito e molto probabilmente fallirà, fallirà in quanto non produce solo povertà, ma indebolisce le frangi debole della società, rinforzo della sottile fascia economicamente forte e supportata dal sistema economico globalizzato. Ecco, allora sarà arrivato il tempo per scelte strategiche e corrette per l'umanità nel suo insieme, se avremo ancora quel tempo, perché se ci sarà ancora quel tempo. Il sistema economico globale funziona quasi esclusivamente sulla base degli scambi finanziari, si vendano e si comprano azioni. E gli attori di questo gioco internazionale del denaro intascono tutto ciò che i risparmiatori investono. È come un ritorno al capitalismo mercantile del XIX secolo. Dinanzi a questa forma di economia, il capitalismo africano non ha alcuna possibilità, se non come smembramento di un sistema posto in atto a partire dal XVI secolo e dominato a tutt'oggi dalla triade USA, Europa, Polo Asiatico. L'economia mondiale non è più fondata sull'apporto di materie prime dal sud e economia di informazione, quindi è lontanissima dalla cultura africana. Gli slogan messi avanti da alcuni partner dell'Africa, secondo i quali essa non dovrebbe mancare l'appuntamento del terzo millennio, sono assolutamente privi di significato, a mio avviso. Una sorta di oppio dei popoli, allo scopo di abusare delle persone, lanciandole in una fuga in avanti, sapendo benissimo che non riusciranno mai a perseguire ciò che idealmente ed induttivamente rincorrono, sino a che tutta una serie di condizioni di base non verranno soddisfatte. Il ruolo dell'Africa sembra che non sia mai cambiato dal XVI secolo, quando cominciò l'invasione dall'esterno e la conseguente tratta dei neri, nel corso della quale sono stati mercantiggiati milioni di schiavi neri. L'utilizzo di esseri umani come riproduttori di altri esseri umani utilizzati nel lavoro delle piantagioni, bambini gettati in mare, abbandonati in qualche mercato perché troppo piccoli per essere sfruttati. Nel frattempo addirittura si teorizzava e si disquisiva sulla questione se i neri avessero o no un'anima. Ecco, la tratta dei neri fu il punto di partenza di una decelerazione, di un arresto della storia africana. Se la ignoriamo, non possiamo certamente nemmeno provare a comprenderne il continente. La tratta dei neri contribuiva a spingere gli stati colonizzatori verso l'industrializzazione. Il patto coloniale voleva che i paesi africani producessero solo materie grese da inviare al nord dove venivano lavorate. È da lì che all'Africa è stato imposto il ruolo di fornitore di materie prime. Patto coloniale che perdura anche ai nostri tempi. Ovviamente questo ruolo equivaleva ed equivale a spogliare un continente di ogni possibilità di crescita individuale. Questo sistema genera miseria. La miseria annulla la possibilità di fare delle scelte. Ecco, io credo che non si possa perseverare nella cognizione che la povertà sia la causa del sottosviluppo. La povertà è il prodotto del sistema dominante. Quindi ci si cura della povertà a posteriori senza chiamare in causa le forze strutturali di ciò che la generano. Questa non è la strada giusta, a mio avviso. Ciò su cui dobbiamo meditare, almeno in partenza, è quanto e quale sia stato il torto che ha subito la razza umana attraverso i neri. Solo in quel momento forse anche la popolazione nera verrà riconosciuta sotto tutti i punti di vista quale parte integrante della specie umana. È indispensabile che il Nord riconosca con buon senso ed umiltà quanto e cosa deve imparare dal Sud. È proprio sul concetto di missione che si deve fare chiarezza. Interazione e non imposizione. Il Sud ha bisogno del Nord, il Nord ha bisogno del Sud a completamento delle necessità emergenti, ragionando sempre in termini di reciprocità. I volontari che pur con tanta buona volontà partono e vanno nel sud del mondo, in Africa o in altri paesi, non possono più permettersi di partire senza un minimo di formazione. Su questo insisto tantissimo, perché il rischio è gravosissimo sia per loro che per coloro che teoricamente potrebbero soffrire del loro operato. Occorre grandissima umiltà, atta di imparare, abbandonando l'arroganza e la presunzione che nasce dalla convinzione di appartenere, di essere i detentori della cultura dominante. Questo altro non può che supportare una proposizione sostenuta da un maggior potere economico, relativo, ma evidente nella proposizione stessa. Un potere tale da indurre nei locali un vissuto di appartenenza ad una razza inferiore, come se si potesse parlare di razze nell'ambito del genere umano. In realtà non è sicuramente il potere economico che determina la superiorità di un popolo o la sua ricchezza. E mi pare che il contesto sociale nel quale tutti noi viviamo ne dia viva testimonianza. Sarebbe molto bello se riuscissimo per un attimo a distaccarci dall'imposta concessione della globalizzazione neoliberista. A mio avviso, solo la dimostrazione del rispetto rivolto verso coloro i quali si vuole provare a dare una mano, l'umiltà orientata a volere imparare, dando la giusta valenza alla cultura ospite, può avere un significato. Non si tiene in considerazione che c'è, ed è ben rappresentata, un'arte africana del vivere, della solidarietà, della relazione umana, dell'apertura verso gli altri. C'è la ritualità dello stare insieme, del condividere. Ma il muro che il sistema ha costruito nei secoli ci impedisce di vedere, conseguentemente si salta carichi del proprio fardello di presunzione, incapace di arricchirsi della diversità. È una lotta durissima quella che ci attende, ma è indispensabile al fine di smantellare questa sorta di pseudosviluppo cannibalistico, in quanto il Nord, che gode di redditi procapite da 40 a 50 volte superiori a quelli del Sud, sembra non volere sentire ragione, rivolte ad un livellamento umano ed umanizzante adeguato allo sviluppo planetario, superando gli schemi colonialistici ed abbattendo il grande muro che divide il mondo in due pianeti, di cui uno rappresenta il cibo e il sostentamento per l'altro. Bisogna favorire l'insorgenza di gruppi che si prefiggano progetti, che partano dall'uomo per arrivare all'uomo, un uomo nuovo, un uomo del terzo millennio, aperto alla relazione, allo scambio, all'etica universale, nel rispetto reciproco delle culture che caratterizzano gli individui e i gruppi di appartenenza. Il centro del mondo non è il Nord tecnologicamente avanzato, il centro del mondo è dentro ognuno di noi, è da lì che dobbiamo partire, perché è solo così che possiamo avere una possibilità, la possibilità di essere nuovamente umani ricettori e trasmettitori di valori. Lo sviluppo umano, con tutto il rispetto, è una cosa troppo seria per lasciarla nelle mani dei soli economisti, perché la storia dell'uomo siamo noi, tra la scienza, il denaro, il potere e la violenza, spetta all'umanità a fare una sintesi che gli ha diritto alla coscienza, in quanto è solo a questo livello che si trova qualcosa in più della razionalità. La coscienza è vita, è assunzione di responsabilità, è la guida che governa il focolare incandescente dello spirito umano e che consente il superamento dell'inferno. Detto questo, io passo la parola immediatamente al professor Pampiglione, che ci farà una relazione dettagliata sulle missioni in Africa. Giusto? Sui problemi sanitari. Gli organizzatori di questo congresso mi hanno affidato, se si può, ecco, mi hanno affidato questo compito di illustrare la problematica sanitaria in Africa. È un problema molto vasto, molto complesso. Io ho tentato di semplificarlo proiettandovi delle schede, diciamo, commentandole e poi con molte fotografie. Vediamo. Ecco, vorrei subito chiarire un concetto, che moltissime malattie che vengono chiamate volgarmente tropicali non sono tropicali, ma sono il risultato di moltissimi altri fattori, fattori socio-economici, culturali, eccetera, e dove c'è una base soprattutto di miseria e di ignoranza. Prendiamo ad esempio la lebra. La lebra è stata, la gente della lebra è stata scoperta in Norvegia nel 1880 e in Norvegia c'erano molti lebrosari, come c'erano in tutta Europa, perfino a Bologna, San Lazzaro, per esempio, si chiama San Lazzaro perché c'era un lebrosario. La mebbiasi è stata scoperta a St. Petersburg, in Russia, per cui non è una malattia tropicale. Nel 1880, quando è stata scoperta, anche quella, nel 1875, era frequente in Russia. L'anchilosomiasi, una malattia da un verme che dà anemia e che provoca e che colpisce circa un miliardo di persone oggi nelle zone tropicali, è stata scoperta a Milano, a Milano nel 1843, dove c'era almeno il 10%, se non il 15% di persone colpite da questa malattia, specialmente nelle campagne. La malaria, la trasmissione attraverso le zanzare della malaria è stata scoperta a Fiumicino, alle porte di Roma, dove c'era questa malattia. Per cui, vedete, andiamo avanti con moltissime malattie, oltretutto, che colpiscono i paesi tropicali e l'Africa in primo piano, sarebbero evitabili, evitabili con sistemi molto semplici. Per esempio, in Africa si muore facilmente di morbillo, ci sono delle epidemie fortissime di morbillo, si muore di tetano, c'è la poliomielite, tubercolosi, tutte malattie che oggi sono evitabili con le vaccinazioni. Altre poi sono malattie come l'AIDS, la tubercolosi, i vermi intestinali, che si trovano un terreno fertile dove non ci sono le conoscenze di come si prendono queste malattie. E c'è appunto ignoranza in questo senso, ignoranza del ciclo biologico di queste parassitosi. In Africa si muore di diarrea, si muore di broncopolmonite, di malattie che sono facilmente curabili con i mezzi di oggi. Avanti, per piacere. Per cui vedete che il problema della salute non è soltanto quello del microbo e del paziente, ma è un problema legato a fattori molto complessi, socio-economici, politici, socio-culturali, climatico-ambientali, dove c'è siccità, muoiono gli animali, muoiono le persone, dove c'è allagamenti, la stessa cosa, le carestie, le reti stradali inesistenti, l'acqua potabile, pensate che neanche il 45% degli africani beve dell'acqua potabile. I gabinetti, la stessa cosa, oltre la metà, il 60%, si parla di persone che non hanno un gabinetto. E questo vuol dire un fecalismo ambientale, cioè una dispersione delle feci nell'ambiente che provoca una quantità poi di malattie nelle persone che vengono contagiate facilmente. Poi ci sono la scarsità di medici, la scarsità di infermieri, le guerre, le guerre, è un problema terribile quello dell'Africa, perché chi gli vende le armi a questa gente siamo sempre noi. Vi farò vedere delle persone che sono saltate sulle mine, e le mine sono mine italiane in gran parte. Poi ci sono repressioni feroci, di dittatori feroci, ci sono violazioni dei diritti umali, carceri in cui si sopravvive come delle bestie, delle cose veramente incredibili a vedersi. Avanti. Ecco, qui vedete che cosa la siccità. Questa è una fotografia che è presa nel Mali, quando morivano a centinaia, a migliaia, le pecore e i bovini nei mercati portavano degli scheletri, li vendevano per pochi soldi, ma naturalmente dove c'è questo Stato c'è anche la successiva, la successiva, ecco, c'è anche questo, c'è la fame, la fame vera, in cui le persone perdono peso e muoiono. Ultimamente in Niger, per esempio, c'è stata almeno 5 milioni di persone che sono stati a rischio di morire di fame, moltissimi sono morti, e nei prossimi sei mesi si pensa che soltanto nella zona che va dalla Zambia, Mozambico, Malawi e Zimbabwe, ci siano circa 10 milioni di persone che rischiano di morire di fame. Qui vedete soltanto delle immagini, per esempio, questo è l'allagamento della bidonville di Maputo, nel Mozambico, ha piovuto molto, immaginate la gente che salute che può avere. Andiamo avanti. Queste sono le strade, questa è la strada che va da Chisangani verso Lituri, una strada che normalmente ci si dovrebbe mettere otto ore, oggi ci si mette tre giorni, perché non c'è assolutamente manutenzione, perché è diventato, ormai l'asfalto non esiste più, e guardate come si va. Se davanti a noi c'è poi un camion che va a finire così, non ci si muove più, diciamo, per alcuni giorni bisogna accamparsi lì. Andiamo avanti. Poi ci sono i fiumi che intersecano le nazioni, questo è in Guinea-Bissau, la Guinea-Bissau è un paese di neanche poco più di un milione di abitanti, dove ci sono una quantità di fiumi, di paludi, e con l'automobile bisogna aspettare i traghetti, per cui per arrivare, fare 100 km o 200 km ci si possono mettere giornate intere. Tutto questo influisce sulla salute, influisce sul fatto che per trovare un medico in questi paesi non è facile, non solo, ma poi c'è la fuga dei cervelli, perché molti medici che hanno studiato preferiscono stare in città dove c'è l'acqua calda e l'acqua fredda e la doccia e la vasca da bagno che vivere in questi paesi. Qui vedete una sorgente e come è fatta una sorgente probabilmente la captazione di questa sorgente era buona, c'erano questi tubi, però poi non c'è stata manutenzione e l'acqua ha filtrato da sotto quel muro che mantiene la sorgente, che doveva tenere la sorgente pulita e la gente entra con i piedi dentro per prendere l'acqua, per cui immaginate quanto sia pulita questa sorgente. qui vedete come spesso in Africa l'acqua deve essere portata da lontano chilometri ore di tempo che si perdono per portare l'acqua. Questi sono dei bambini, queste sono delle donne, la precedente fotografia era nel Congo, questa è nel Togo, ma dappertutto in tutta l'Africa vediamo di queste scene. Poi c'è il fecalismo come vi dicevo, la mancanza di gabinetti. Questo qui è nei dintorni di Ouagadougou nel Burkina Faso basta fare due passi fuori dalla città e si vedono campi di cosparsi di feci umane e naturalmente qui c'è una serie di gabinetti può andare avanti ecco una serie di gabinetti dove si vede come vengono tenuti. Io mi ricordo questo invece è un gabinetto dell'Università di Bologna ve l'ho voluto mettere per far vedere come è facile in fondo criticare gli altri però bisogna anche vedere come questo qui avvia Zamboni 33 se mi interessa. andiamo avanti ecco questo è un bambino che ha avuto della diarrea e che l'ha lasciata lì immaginate le mosche la possibilità di trasmissione di diarrea vi dicevo che in Africa si muore di diarrea molto facilmente specie nei bambini questo invece è un bambino in Sicilia negli anni 60 io ho lavorato un anno in Sicilia e ho visto delle scene veramente africane oggi molte cose sono cambiate però non andiamo troppo nel sottile perché vedremo ci sono delle situazioni molto simili questo è una fogna aperta a Ouagadougu città nel Burkina Faso dove c'è di tutto perché gli scoli delle case vanno in questa in questa canaletta e immaginate le mosche le zanzare la sporcizia eccetera questi invece siamo sempre a Palma Montechiaro in Sicilia negli anni 60 in cui fu fatta una grossa inchiesta sulle condizioni di vita 20.000 abitanti senza fogne e canalette aperte di questo genere avanti l'immondizia l'immondizia servizi di immondizia molto spesso nelle città non ci sono per cui vengono sparse così le immondizie e animali e certe volte anche persone vanno a cercare alimenti questo vedete a Luanda nell'interno nel cortile di grandi fabbricati guardate sono tutte mucchi di mondezza che c'è lì e addirittura si è formata una piccola palude all'interno dove naturalmente c'è un pullulare di zanzare impressionante avanti questo lo stesso in un altro fabbricato potete vedere tutte le mondezze qui invece siamo nelle mine questo qui in Mozambico è una persona che è saltata su una mina e gli si è aperta una gamba queste mine in gran parte spesso sono di fabbricazione italiana e è veramente una vergogna che sia possibile che in Italia ci sia un commercio di armi fiorente malgrado tutte le leggi le disposizioni che ci sono state però continua a funzionare e le armi italiane dalle mine a tante altre a fucili specializzati a elicotteri e apparecchiature tecnologiche avanzatissime vengono vendute un po' da tutte le parti questo è in un ospedale nella Tanzania dove durante la guerra di liberazione del Mozambico arrivavano le persone appunto saltate sulla mina questo invece è nel Congo un bambino che ha ricevuto una scheggia di granata sapete che in Congo c'è stata guerra sopra guerra da decine d'anni qui vedete invece una scena di soldati portoghesi che sono fieri di aver tagliato la testa di un guerrigliero mozambicano andiamo avanti qui vedete una donna Sarawi Aminatou Haidar una bravissima donna che ha fatto ultimamente uno sciopero di oltre 50 giorni sciopero della fame in carcere una donna che è desaparecida per tre anni è una Sarawi che combatte per i diritti umani del suo popolo contro il governo marocchino saprete forse come è avvenuto l'invasione della terra dei Sarawi e cioè del Sahara occidentale per opera del Marocco che contro ogni legge internazionale ha invaso questo territorio nel 1975 questa fotografia è di pochi giorni fa la storia del rapporto vedete tra paesi ricchi e Africa è intessuta tutta di ingiustizie violenze oppressioni e sono le basi del sfruttamento coloniale che viene mascherato da un'ipocrisia incredibile perché se prendiamo non so il Congo belga il cosiddetto stato libero del Congo che si chiamava prima dove il re del Congo per circa 23 anni ha fatto morire lo dico chiaramente perché è così oltre 10 milioni di persone e c'è un libro interessantissimo che si chiama i fantasmi del Congo che vi invito a leggere perché racconta delle cose che la storia poi ha falsato perché la storia l'hanno fatta i vincitori e questa gente come diceva anche la dottoressa Barbieri questa gente doveva accettare la storia dei vincitori perché loro non avevano storia e allora il re del Belgio faceva delle grandi donazioni alle società scientifiche alle chiese agli ospedali in Europa però poi lì si impossessava del lavorio si impossessava del caucciù si impossessava di tutte le ricchezze di questo paese avanti ecco qui vedete alcune dati storici di queste lotte che ci sono state questo è il forte dell'isola di mozambiche l'isola che poi ha dato il nome a tutto lo stato mozambico nel sedicesimo secolo è stato fatto questo forte che era un centro di raccolta di tutti gli schiavi che venivano portati dall'interno e tenuti lì sul mare in quest'isola e poi portati via dalle navi verso le Americhe naturalmente c'era la chiesetta erano molto religiosi questi portoghesi che facevano il commercio degli schiavi come come poi saranno gli spagnoli i francesi eccetera eccetera andiamo avanti questa è l'isola di Goree l'isola di Goree è sull'Atlantico sull'altra l'altra era sull'oceano indiano anche questa era un centro di smistamento degli schiavi avanti ecco c'è una casa ancora questa casa degli schiavi e dove c'è questa scritta che vi traduco il popolo senegalese ha saputo mantenere l'attuale casa degli schiavi in modo di ricordare ad ogni africano che una parte di lui stesso è passata per questo santuario avanti ecco queste qui sono come era fatta la casa degli schiavi avanti gli schiavi erano ammucchiati in questi corridoi proprio ammucchiati come sardine e aspettavano che venissero i galeoni delle varie nazioni e naturalmente c'era anche lì la chiesetta dove venivano benedetti i massacratori di questa gente qui vedete come si puniva al tempo di Leopoldo II re del Belgio e come si punivano le persone che non portavano il quantitativo di avorio o di cauciù queste sono delle fotografie terribili perché queste guardate queste persone hanno in mano delle mani di altre persone a cui sono state tagliate perché non avevano portato il quantitativo giusto di avorio guardate ci sono state migliaia di persone con le mani tagliate per punizione questo è un padre che guarda le mani e un piede della figlia che sono state tagliate perché c'erano anche questi ricatti familiari queste sono le mogli che venivano catturate e tenute in catene fino a che i mariti non portavano il peso giusto il quantitativo giusto di cauciù questo invece è un camp de recroupement chiamato così cioè un campo di concentramento in Algeria siamo negli anni 60 1960 61 guerra d'Algeria in cui i francesi popolo civilissimo ha rinchiuso in questi campi di concentramento nomadi con i loro animali gli animali sono morti dopo poco tempo perché tutte le erbe sono state mangiate attorno e poi sono morte le persone io ho lavorato tre anni in Algeria e ho visto tanti di quelle persone tubercolotiche che uscivano da questi campi che veramente mi è passata la voglia questo è una scena nel campo di Soveto dove al tempo dell'apartheid cioè non molti anni fa sono stati ammazzati dalla polizia mitragliati centinaia di persone questi sono dei genitori che vanno a cercare tra i cadaveri il cadavere del figlio questa è una delle tante mistificazioni siamo nello Zaire nel Congo il presidente Mobutu che è riverito è stato riverito aiutato da tutta l'Europa e da tutto il mondo e che poi sappiamo che era un criminale che ha assassinato tante di quelle persone anche con le sue mani ecco parlava di queste cose di un sol un sol popolo un sola nazione eccetera eccetera questo è un carcere marocchino purtroppo io amo moltissimo il popolo del Marocco però quello che il governo ha fatto e sta facendo verso il popolo Sarawi cioè quelli che abitano il Sara occidentale questo è un carcere come vivono nel carcere ecco come dormono la notte andiamo avanti vedete che ammucchiate questi sono dei prigionieri politici cioè dei prigionieri di opinione Sarawi che queste sono fotografie di poche settimane fa che sono arrivate guardate come sardine sono allineate questa gente ha fatto uno sciopero della fame di 51 giorni nel silenzio assoluto della stampa perché era vietatissimo di entrare ai giornalisti nella regione e le delegazioni straniere sono state respinte nove delegazioni spagnole norvegesi di altri paesi sono state respinte perché non si sapessero però per fortuna con internet sono aggiunte foto esparse in tutto il mondo quali sono le principali preoccupazioni sanitarie quali sono state nell'epoca coloniale prima cosa la paura dei grandi focolai di malattie quali erano il vaiolo per esempio che era una malattia presente in India soprattutto e per cui doveva restare fermata lì il colera la peste poi salvaguardare la salute delle persone che andavano in queste colonie e poi mantenere in efficienza chi lavorava cioè la mano d'opera indigena e precedentemente anche gli schiavi dopo la seconda guerra mondiale c'è stato sicuramente una presa di coscienza diversa e c'è stata una conferenza mondiale della FAO a Roma che ha riconosciuto come più di metà del genere umano era sottoalimentato e affamato la conferenza di Alma Atà nel 78 in cui si è lanciata la parola salute per tutti nell'anno 2000 è un bellissimo slogan che sembrava nel 78 di poter raggiungere e che invece ancora oggi siamo al punto di partenza ultime le dichiarazioni degli obiettivi del millennio fatte a New York nel 2000 e pochi mesi fa di nuovo a New York nel 2005 e che sono state praticamente un vero fallimento la chiave di volta della nuova strategia che è stata lanciata nel 78 al congresso di Alma Atà in cui hanno partecipato tutte le nazioni del mondo e specialmente l'organizzazione mondiale di sanità è stata individuata nella primary health care cioè nell'assistenza sanitaria di primo livello il cui punto essenziale è proprio il coinvolgimento della comunità nella gestione della propria salute cioè non imporre le cose ma discuterne formare ma far sorgere queste cose dal basso e questo è partito dai cosiddetti medici scalzi cinesi di cui avrete sentito parlare e dai Feldscher russi e piano piano si è cominciato a formare anche in Africa vedete qui questa sono delle una commissione di donatori cioè di persone che finanziano per la formazione di infermiere in Guinea Bissau andiamo avanti e qui vedete delle ostetriche di villaggio sono delle donne molto spesso analfabete però a cui si insegnano determinate pratiche molto semplici spesso sono delle tradizionalmente delle ostetriche e anche molto attente molto intelligenti soltanto non conoscono come si possa contagiare diciamo con poca igiene una una donna che partorisce questa è la fabbricazione di un piccolo centro di salute fatto da volontari del villaggio e da volontari anche europei di una ONG viene fuori una casa di questo genere un locale di questo genere dove però si possono accudire alle principali dieci malattie più frequenti nei villaggi qui vedete un infermiere itinerante andiamo avanti questi sono altri due infermieri che hanno i medicinali essenziali perché certe volte bastano dieci medicinali dati al momento giusto e poi sapere fare le diagnosi esatte di quelle dieci più importanti malattie per salvare la vita a una quantità di persone avanti la partenza come vi dicevo è stata ottima l'entusiasmo era grandissimo si pensava veramente la salute per tutti nell'anno 2000 era uno slogan della organizzazione mondiale della sanità che convinse a quell'epoca molta gente però poi che è successo le cose si sono ingarbugliate questi governi fantoccio messi su da le grandi potenze la corruzione la vendita di armi soprattutto l'assassinio delle persone che emergevano delle persone importanti vedremo poi le loro immagini Patrice Lumumba ammazzato nel Congo Amilcar Cabral ammazzato in Guinea Edoardo Mondlane ammazzato in Tanzania lui dirigeva la lotta per la liberazione del Mozambico Thomas Sankara a Ouagadougou nel Burkina Faso e così e poi il sostegno invece di leader terribili sanguinari Idi Amin Bocassar vi ricorderete questi nomi addirittura confinavano con la pazzia come personaggi poi il saccheggio delle risorse locali interessi economici di tutte le grandi potenze e poi per ultimo gli interventi della Banca Mondiale del Fondo Monetario Internazionale l'aggiustamento strutturale eccetera eccetera che hanno indebitato e hanno finito di rovinare soprattutto i servizi sociali perché risparmiavano sulla sanità sulla scuola per cui sui servizi essenziali avanti qui vedete Edoardo Mondlane assassinato con un pacco bomba inviatogli dai servizi segreti sudafricani qui vedete Lumumba il quale è stato qui è una fotografia terribile perché è stato bastonato malmenato gli hanno rotto gli occhiali lui aveva gli occhiali e poi l'hanno infilzato con le baionette e l'hanno ucciso questo è pochi minuti prima della sua morte nel Congo questo è Amilcar Cabral laureato in agronomia intelligentissimo molto bravo attirato con un tranello in Guinea e lì poi fatto fuori questo è Thomas Sankara ucciso anche lui a Ouagadougou nel Burkina Faso uomo onestissimo che aveva creato ha fatto un colpo di mano una rivoluzione senza colpo ferire ma mettendo sotto processo tutti i principali sfruttatori che c'erano prima nel suo paese e per questo è stato ucciso questo è Samora Machel anche lui ucciso con il dirottamento di un aereo pochi anni fa lui è stato il secondo presidente del fronte di liberazione del Mozambico questo qui è un uomo interessantissimo che non è morto perché l'hanno tenuto in carcere vent'anni e ha resistito si chiama Mohamed Daddash oltretutto ha vinto dei premi per i diritti umani per la difesa dei diritti umani della Norvegia e di altri paesi è stato nelle carceri marocchine per 20 anni e questo è Alisa Lem Tamek che proprio pochi mesi fa passò anche in Italia un combattente per i diritti umani del popolo sarawi e che è stato appena ritornato in patria è stato arrestato è stato isolato in un carcere marocchino e ha compiuto uno sciopero della fame di 51 giorni insieme a quegli altri 36 sarawi che vi ho fatto vedere prima stesi per terra e che è ancora vivo oltretutto quello che abbiamo visto c'è la distruzione della cultura locale e dei valori tradizionali che è stata fatta sistematicamente purtroppo da noi persone colte diciamo dalle nostre nazioni la colonizzazione dei cervelli facendo vedere che il modello occidentale è perfetto è il migliore di tutto poi la cattiva cooperazione la mala cooperazione che aveva soltanto stimolava non lo sviluppo ma stimolava la dipendenza la dipendenza a certi agi a certe possibilità e poi soprattutto la mancanza di una volontà politica da parte delle grandi potenze per cui tutti questi buoni propositi sono falliti e oggi ci troviamo in una situazione che forse è ancora peggio di quella del 78 quando si parlò della salute per tutti degli anni 2000 questa è un cartellone di medici inglesi che dicono no alla quantità di medicinali inutili che vengono mandati in Africa tantissimi sono scaduti altri sono addirittura proibiti in Europa ma attraverso la corruzione dei ministri della sanità vengono venduti in molti paesi africani e questo è il biberon questa è stata fatta una campagna fortissima contro la Nestlé la Nestlé ha dato causa ai pediatri inglesi che avevano fatto questa campagna però i pediatri hanno vinto perché avevano ragione loro cioè il biberon e il latte artificiale tanto consigliato e reclamizzato per fare bei bambini dalla casa Nestlé questo biberon e in un paese in cui l'acqua non è bollita in cui non c'è un frigorifero in cui c'è pieno di mosche diventano delle bottiglie di veleno che si danno ai bambini che poi muoiono di dissenteria e di varie diarree questi sono altri aiuti passiamo rapidamente questi sono trattori questi trattori dati a persone senza spiegare che bisogna metterci l'olio nel motore oltre al gasolio per esempio questi sono delle culle termostatatiche inviate a Chisimaio in Somalia in una città cioè dove non c'è la corrente elettrica per cui questi erano completamente inutili però fanno bello il donatore che per ragioni politiche fa questi regali e poi dopo regali che vanno lì buttati lì e che non servono a niente davanti si è bloccato va beh c'è tutta una serie di c'è un altro po' che siamo quasi alla fine del del mio discorso che purtroppo non è molto allegro e anche come diciamo che cosa fare ecco perché davanti a una situazione del genere che cosa fare questo è molto difficile veramente molto difficile dirlo io qui in una di queste schede avevo messo uno scritto di Pasolini Pasolini un uomo strano un uomo controverso rintorcinato eccetera nel 75 lui diceva bisogna abbattere la cultura del consumismo e poi aggiungeva bisogna abolire immediatamente la televisione bisogna processare penalmente bisogna processare penalmente gli esponenti del governo di questi ultimi 30 anni questo diceva Pasolini naturalmente lui era molto estremista io io non non commento questa affermazione queste affermazioni dico però che bisogna pensarci a queste cose voglio dire che ci vuole soprattutto l'impegno personale politico e tecnico di ognuno per risolvere questi problemi perché non bastano i soldi non bastano la buona volontà e ci vuole una perseveranza nell'impegno e soprattutto un sincero amore per queste popolazioni veramente sentirle che sono nostri fratelli nostri fratelli sul piano umano sul piano anche storico perché in fondo proprio l'uomo si è formato in Africa e poi si è esteso nelle altre nazioni bisogna stare attenti però di non dimenticare le cause reali cioè bisogna inutile criticare e dire per esempio questa gente non c'ha voglia di lavorare frasi fatte di questo genere bisogna conoscere i vari fattori che hanno portato a quelle situazioni bisogna stare attenti a non farci l'abitudine anche a divenire indifferenti a forza di vedere di sentire cifre milioni di morti qua alla fine si diventa degli scettici blu diciamo bisogna e non si deve fare questo il futuro certo sarà durissimo non c'è da illudersi troppo però se non si lotta non si vince grazie per l'attenzione passiamo la parola padre Alex allora prima di tutto buonasera a tutti buonasera io non riesco a vedere i vostri volti qui se riuscissimo ad avere meno luce abbagliante sui nostri occhi e un po' più di luce giù nell'assemblea forse potremmo guardarci un pochettino meglio e fare anche meno fatica voi sapete che io avevo detto che non non sarei venuto a Bologna se non se non invitato da una rete di realtà perché davvero sono non è bello vedere come ogni organizzazione stia praticamente muovendosi in proprio quindi quando ho sentito che vi siete messi insieme e ho pensato giusto di accettare di venire ma io vorrei fare piuttosto il duro immediatamente non vorrei che questa rete si sia costituita semplicemente per questa sera o per questa occasione guardate che non si ottiene nulla se non si lavora insieme mi sembrava molto bello quell'insieme A ed è importante adesso che su Bologna questo insieme A vada avanti a lavorare guardate che davvero è fondamentale il fare rete capite che davanti a problemi come vi ha presentato il professore capite subito che siamo già quattro gatti che stiamo lottando se lottiamo da soli non combiniamo assolutamente nulla i problemi sono enormi sono problemi che domandano decisioni politiche e quindi dobbiamo lottare ma insieme quindi mi auguro davvero che questo sia l'inizio e davvero me l'hai promesso per cui non vorrei che questa sera fosse soltanto una bella cosa per un incontro ma che sia effettivamente la volontà di questa città che è così ricca di iniziative ma poi anche di giovani che studiano eccetera che sia davvero l'inizio di qualcosa di nuovo in questo senso prima di che io inizi non vorrei perché abbiamo già fatto molto tardi cercherò di essere brevissimo e qui c'è mi hanno chiesto proprio all'inizio di ricordarvi che continuerà anche questo in questi giorni voi continuerete con le vostre cose ma poi dovrebbe andare avanti un laboratorio sud-nord che coinvolgerà un po' sarà lungo cominciando col 13 ottobre avanti fino al 29 novembre con tutta una serie di iniziative sulla cooperazione su tutta una serie di realtà di questo lavoro nord-sud che è promosso appunto da giovani missioni fuori troverete anche questi volantini con con questa roba che potete poi vedere anche sul video quindi fa parte un po' di questo sforzo collettivo per cercare di rispondere a questi enormi problemi notate questa sera io volevo avevo quasi in mente di partire anche se stiamo parlando di Africa di partire con ricordando un uomo che sta per quanto mi riguarda ancora digiunando non so se ha smesso ma insieme al digiuno di 51 giorni dei Sahrawi di cui si è parlato veramente pochissimo anche in Italia ed è un peccato perché è un popolo che sta soffrendo e non sta ottenendo i propri diritti nonostante tutte le emozioni internazionali c'è interessante che per la prima volta per me la prima volta non ho mai visto una roba del genere che un vescovo Don Luis Flavio Cappio vescovo di Barra in Brasile ha iniziato il 26 settembre uno sciopero della fame con l'obiettivo di bloccare il progetto di deviazione del corso del rio São Francisco e come lo chiamano le popolazioni riverasche notate quest'uomo ha deposto presso il notaio questo testamento è la prima volta che sento una roba del genere e mi sembra che finché ci sono uomini del genere c'è ancora speranza dice in nome di Gesù risorto che vince la morte con la vita piena faccio sapere a tutti uno con libera e spontanea volontà assumo il proposito di dare la mia vita per la vita del rio São Francisco e per quello della sua gente contro il progetto di deviazione del fiume a favore del progetto della sua rivitalizzazione due continuerò lo sciopero della fame sino alla morte nel caso tale progetto non sia ritirato terzo lo sciopero della fame sarà sospeso solo in presenza di un documento firmato dall'eccellentissimo signor Presidente della Repubblica che arrevochi e archivi il progetto quattro nel caso in cui il documento debitamente firmato dal Presidente della Repubblica arrivi quando io non fossi più padrone dei miei atti e decisioni chiedo la per carità che mi sia prestato soccorso perché non desidero morire cinque nel caso invece venga a morire vorrei che i miei resti mortali riposassero vicino il buon Gesù dei naviganti mio eterno fratello ed amico a cui con molto amore ho donato tutta la mia vita nella mia amata diocesi di Barra sei chiedo ardentemente che questa decisione sia rispettata ed osservata fino alla fine è la prima volta che sento un'azione del genere notate mi sembra che ci sia stato un primo abboccamento fra il Vescovo e Lula proprio per arrivare ad accordarsi su su questo ma guardate a me impressiona molto un gesto del genere perché penso che ormai siamo arrivati a un punto della situazione umana che ormai verrà richiesto a molti di noi dei gesti molto coraggiosi altrimenti guardate non ne usciremo fuori dalla pazzia collettiva in cui ci siamo cacciati da qui permettetemi di reagire il più breve possibile a quello che anch'io ho ascoltato questa sera notate prima di tutto e ve lo dico in chiave personale la prima cosa quando io ho sbalzato via da Negrizia e questo proprio per gli attacchi alla malcooperazione italiana che avevano fatto grosse pressioni sul Vaticano perché me ne andassi da Negrizia sono arrivato a Nairobi prima ancora di arrivare a Corococcio la prima volta che io ho celebrato messa con una comunità di keniani ho ritenuto bene fare un gesto che mi sembrava il minimo che potevo fare semplicemente all'inizio della messa ho detto guardate voi vedete io sono un prete un prete bianco voi come neri chiaramente in un bianco vedete non solo un prete ma tutto quello che il bianco ha fatto in questo continente non penso che posso celebrare l'Eucaristia senza chiedervi perdono e ho detto loro guardate penso che è il gesto più bello a cui posso pensare io mi metto qui davanti a voi e chiedo ognuno di voi di venire e di tracciare sul palmo della mia mano un segno di croce dicendomi ti perdono fratello bianco penso che è fondamentale questo atteggiamento nei confronti soprattutto dell'Africa guardate che se non assumiamo è per favore inutile che stiamo qui a far finta che quelle cose non siano successi sono successi dobbiamo assumercele ma dobbiamo avere il coraggio davvero di chiedere perdono e di convertirci a qualche cosa ad altro guardate non è non è prendendo tutta questa gente mettendoli al muro che risolveremo nulla non ci sono già molte di questa gente è in questa capacità davvero di cambiamento radicale passando per il perdono la famosa frase non c'è pace senza giustizia ma non c'è giustizia senza perdono cioè c'è un passaggio che Desmond Tutto ha espresso molto bene anche Mandela fra l'altro nella sua autobiografia e Desmond Tutto nel suo ultimo libro non c'è futuro senza perdono l'ha espresso con profonda chiarezza e mi sembra che sia la strada altrimenti davvero non ci resta che sbranarci a vicenda quindi in questo atteggiamento io lo chiamo proprio personale fra l'altro mi assumo anche tutti i problemi come missionari che abbiamo enormi problemi anche qua dentro e che come l'Igrizia davvero ho fatto un'autocritica molto molto dura che è stato molto pesante anche per me perché le reazioni che ho avuto sono state pesantissime anche all'interno delle forze missionarie a questo livello vedete io ritengo importante questo atteggiamento proprio di domanda di perdono davanti a che cosa davanti io accentuerò questa sera in particolare l'Africa che vive un momento guardante di un momento estremamente ma di una gravità incredibile fra l'altro avevo portato con me due testi uno non sono riuscito a trovarlo l'altro uno era l'editoriale di ieri o l'altro ieri ieri facilmente di Ben Jaloon su Repubblica che commentava i fatti di Ceuta e Melilla questa invasione di africani che stanno cercando di praticamente di sventrare la barriera che chiude la Spagna dall'Africa è chiaro che ormai la gente preme alle frontiere e Ben Jaloon dice per favore questa gente l'Occidente non può far finta di sono la conseguenza di un sistema che porta la gente alle disperazioni e secondo questo testo che io prendo fatto copiato da una rivista di servizi segreti italiani che dice l'Africa è una bomba d'orologeria se da un lato un gigantesco deposito di materie prime alle quali tutto il mondo ambisce dall'altro il fatto stesso che queste materie prime non possono essere lavorate nel continente né riduce le possibilità di emancipazione in Europa conosciamo l'Africa attraverso l'immigrazione ma quel che non sappiamo è che dietro ad ogni immigrato che raggiunge le sfonde europee ce ne sono altri quattro che non ce l'hanno fatta e sono accaduti durante la traversata del deserto tra le mani dei banditi e dei doganieri che li hanno depredati dietro ognuno di questi quattro sfortunati ce ne sono 50 che non hanno ancora avuto la loro occasione di tentare la fuga dalle guerre dall'inquinamento dall'AIDS dallo sfruttamento dalle tirannie notate sono due commenti se volete a caldo di questo dramma incredibile degli immigrati che sono soltanto guardatelo bene per favore una spia per dirci la gravità della situazione che vive questo continente guardate che fra l'altro noi siamo responsabili incredibili di queste cose è inutile che Pisano che prima era nostro ministro che adesso è in Europa abbia continuato a negare che per esempio i CPT o altri non siano lager sono degli autentici lager abbiamo migliaia di persone che muoiono nel Mediterraneo stiamo costruendo adesso i CPT centri di permanenza temporanea non più in Europa la comunità europea è molto più intelligente Pisano li sta costruendo a Tripoli tre CPT costruiti a Tripoli con soldi italiani da dove partono poi da Tripoli riportati nelle loro capitali i voli aerei pagati dall'Italia guardate che essere riportati in Eritrea oggi vuol dire essere messi al muro guardate che la gente morire nel deserto a questo punto morire per fame morire morire in mare ma chi se ne frega guardate che l'unica cosa tentano il tutto per tutto è un continente davvero che sta bussando alla nostra porta notate proprio partendo dalle provocazioni di questa sera dalla provocazione in particolare iniziale di Luisa che ha fatto anche in questa sua lettera che mi diceva era un po' arrabbiata ma è vera io vorrei partire il primo allarme lo lancerai in chiave culturale se parliamo di questo continente Africa che vive un momento gravissimo guardate che ancora più grave è la situazione culturale io ritengo che l'Africa sia il polmone antropologico del mondo sapete che il polmone del mondo è l'Amazzonia lo stiamo tagliando e rappresenta il 18% dell'ossigeno mondiale stiamo uccidendo e tagliando l'altro polmone polmone culturale guardate che per favore l'Africa è il polmone antropologico del mondo non c'è nessun continente che ha la ricchezza culturale religiosa di spiritualità che ha questo continente e rischiamo nei prossimi 30-40 anni di distruggerlo così notate che davvero l'uomo nasce in Africa gli ultimi studi del DNA ci dicono con una direi quasi matematica certezza che discendiamo tutti da un'unica coppia fra virgolette originale queste sono le parole degli studiosi del DNA e questa coppia fra virgolette e appare dicono licenziati in Africa orientale notate sono crollate ormai tutte le teorie di varie apparizioni di coppie in giro per il mondo da cui sarebbero discese discendiamo tutti da un'unica coppia originale i nostri bellissimi Adamo e Eva di Michelangelo così bianchi o di Masaccio erano dei nerissimi neri cominciamo a ripensare non so cosa dirà Borghezio di affermazioni di affermazioni del genere ma lo lasciamo dire perché anche lui ha diritto a dire quello che vuol dire notate è chiaro che i nostri progenitori erano dei nerissimi neri e che le razze tutte le razze della terra discendono da qui e guardate che proprio per questo che l'Africa è il polmone antropologico del mondo è il nostro cordone umbilicale è la madre guardate che se riflettiamo un attimo su questo e cominciamo a capire le balle che ci hanno raccontato guardate l'UNESCO ha chiesto una prima storia dell'Africa ne sono usciti otto volumi vi leggete i primi due tre volumi che è la storia antica mamma che roba incominciamo adesso finalmente a scoprire quello che c'è stato dietro a quest'Africa guardate che qui abbiamo l'inizio delle grandi civiltà e cominciamo a capire come il disprezzo che noi abbiamo avuto verso questo continente come il continente del vuoto della non cultura noi andavamo a portare la civiltà cominciamo a capire davvero che razza di menzogna è una menzogna che era fondamentale però per il colonialismo e per l'imperialismo altrimenti non avremmo fatto quello che abbiamo fatto ma guardate che l'Africa è il cuore delle grandi civiltà antiche tanto che Shekhan Tadiop il grande ricercatore senegalesi che lavorava col C14 e lui ormai tantissimi scienziati oggi storici l'ammettono dice che la grande civiltà faraonica era semplicemente se volete la spinta propulsiva delle varie civiltà che sono nate in quest'Africa quindi quindi abbiamo nel cuore dell'Africa delle enormi civiltà che sono nate e che sono la base che poi sono pervenute tramite l'Egitto nella grande civiltà greco-romana eccetera e quello che abbiamo oggi tutti i popoli hanno contribuito guardate che questo è fondamentale provate a pensare a una cosa semplicissima noi pensiamo alla scultura greca quinto secolo di una bellezza incredibile andate nel cuore dell'Africa nel cuore nell'impero come si chiama del Ghana quinto secolo prima di Cristo trovate le teste d'oro umane di una perfezione di una bellezza andate al British Museum non ci sono più in Africa queste ve le troverete lì eppure c'è nessuna relazione fra l'Atene classica nostra e per dire guardate che l'Africa davvero è un'altra cosa da quello che ci hanno presentato io non dimenticherò mai l'intervista che ho fatto quando ero direttore di Negrizia a Sheik Antadiop non mi voleva ricevere perché pensava che volessi fare un'intervista politica invece ero interessato alla sua ricerca sulla civiltà faraonica le radici nere della civiltà faraonica e quando finalmente ha accettato abbiamo parlato era così felice che non mi dimenticherò mai lui è morto adesso quando lui mi ha accompagnato alla porta e guardando mi disse padre Alex ricordati che questo continente non avrà mai un futuro se non prenderà coscienza delle proprie radici del proprio passato è verissimo guardate che l'Africa la razza nera è stata poi quando si è aperta quello che è il commercio internazionale 1498 col viaggio di Vasco da gamma l'apertura ai mercati chiamiamola all'oggi se volete la nascita della globalizzazione da qui che nasce notate che l'Africa ha subito prima cosa l'avete visto la schiavitù guardate che la schiavitù ha lasciato una ferita dentro che è incredibile la razza nera e che si porta ancora dentro l'esperienza fatta a Corococcio guardate è stata per me bruciante a questo livello nei momenti in cui perché a Corococcio sai quando voi vi immergete con la gente vi mettete fianco a fianco vivete soffrite con loro anche nei momenti in cui non capite più nulla allora vi rivela davvero quello che sta dietro quanta gente non mi ha detto ma forse noi siamo una razza maledetta c'è qualcosa che non va con la nostra razza c'è un guardate che questa ferita della schiavitù è qualcosa che pesa enormemente pensate uno dei più grandi pensatori africani e uno dei più grandi teologi africani padre Nveng gesuita uno ucciso fra l'altro nel 95 dal governo del camerun proprio per i suoi attacchi al governo ucciso in maniera terribile gli hanno tolto testicoli cuore cervello proprio proprio un sacrificio umano l'hanno fatto apposta per quest'uomo parlava della povertà antropologica dell'Africa cosa intendeva per povertà antropologica diceva che l'Africa ha dovuto questa drammatica storia sua e si porta dentro questa ferita per cui l'Africano il nero si rifiuta come razza non vuole essere quello che è e questo guardate che è un problema grosso è stato bellissimo che padre Nveng un teologo nero della portata che aveva questo uomo l'abbia fermato con chiarezza a questa la schiavitù guardate e per favore non c'è solo la schiavitù bianca guardate che la schiavitù araba è stata altrettanto devastante se gli europei hanno fatto il macello sulla costa orientale altrettanto se non di più l'hanno fatto gli arabi musulmani sulla costa orientale quindi è davvero una direi una distruzione umana antropologica che è avvenuto al di là del depauperamento dell'Africa è stato quello che ha inflitto alla razza nera questa questa esperienza che è durata praticamente 300 anni con le benedizioni anche delle chiese eccetera tra l'altro è incredibile quel verissimo quello che ho sottolineato quelle cappelle che ci sono a me ha fatto impressione l'ho qui con me il documento delle chiese riformate fatto ad Acra quando durante l'incontro fatto l'anno scorso 2004 i delegati 400 delegati sono andati da Acra capitale del Ghana sono andati alla fortezza di come lo chiamano Elmina sulla costa su quello che è oggi il Ghana sulla costa dove c'è questa fortezza come quella che avete visto di l'isola di Corè eccetera dove venivano partivano gli schiavi notate i delegati dicono in questo documento bellissimo fra l'altro dicono siamo saliti al secondo piano siamo guardati attorno e abbiamo visto che c'era una cappella abbiamo chiesto le guide ma è una cappella hanno detto sì ci hanno mostrato anche le parole di un salmo ancora istante abbiamo chiesto ma chi pregava qui ci hanno detto il governatore i soldati gli amministratori ma come facevano a pregare a lodare Dio quando sotto c'erano le celle degli schiavi ma che razza di cristianesimo era mai quello noi delegati bianchi dice il documento siamo scesi e abbiamo chiesto incomminarci col volto cupo i delegati delle chiese del sud del mondo ci hanno guardato e ci hanno detto ma ma perché siete così tristi cosa avete visto e gli hanno detto ma non avete visto la cappella ce l'abbiamo vista ma noi ci siamo detti ma come facevano quelli bianchi delle chiese riformate erano olandesi quella era un fortezza olandese che erano della chiesa riformati ad essere cristiani mentre sotto avevano i delegati delle chiese del sud del mondo hanno detto una cosa interessantissima ci hanno detto ma ma non fate la stessa cosa che voi ma dice guardate quello che succede oggi voi bianchi nelle vostre bellissime chiese o quel che volete voi d'inverno riscaldate d'estate e che l'ho dato e benedite il Signore sotto ci siamo noi destinati a morire è la stessa identica logica cominciamo a ragionare su queste cose a capire che non sono robe sono robe nostre in cui noi oggi ripetiamo le stesse identiche cose notate questa prima esperienza drammatica guardate la schiavitù che ha segnato e che ha bollato con un rifiuto dentro che la povertà antropologica di padre Mvang secondo alla schiavitù è subentrato il colonialismo c'è molta gente che asserisce che non è stata a lotta contro la schiavitù che ha fatto finire la schiavitù ma semplicemente perché con l'invenzione delle macchine non c'era più bisogno di schiavi c'era bisogno di materie prime ed ecco allora l'occupazione per favore è stato interessante quello che vi ha mostrato sul Congo ma guardate che per favore noi italiani non siamo stati meno selvaggi nelle nostre occupazioni noi ancora in Italia ci riteniamo buoni conolianisti ma può esistere un buon colonialista guardate che Del Boca io ero amico suo quando ho iniziato a lanciare i suoi primi articoli quando ero direttore di eglizia che mi hanno procurato incredibili attacchi da tutte le parti Del Boca adesso è uscito con cinque volumi mamma che roba andatevi a leggere quello che abbiamo combinato in giro la Libia guardate che Graziani ha trucidato impiccato fatto fuori almeno cinquantamila libici in una campagna che abbiamo usato i grass nervini nella guerra contro Etiopia del 36 con Mussolini abbiamo buttato non qualche tonnellate di gas nel vino delle truppe già che fuggivano cioè sono queste le tragedie nostre anche italiane guardate che il colonialismo in Africa è stato un colonialismo brutale e che quindi è andato a rafforzare nella piaga dello schiavismo un qualche mettiamoci tutto sul piatto questa roba quello che è avvenuto tutti quei macelli alcune ma anche il nostro colonialismo italiano che è stato spaventoso notate il colonialismo è subentrato il neocolonialismo noi le abbiamo chiamate indipendenze ma finiamola ma guardate che l'Africa non è mai stata indipendente in questi anni ha servito alle madri e patrie in maniera molto splendida ma di al neocolonialismo anni Ottante ha cominciato a subentrare il neoliberalismo e oggi la globalizzazione e quindi capite che razza di camicia di forza abbiamo messo addosso a questo a questo continente ed ecco allora capite da qui non solo il dramma economico il dramma sociale il problema che vi è stato espresso di malattie ma soprattutto il dramma culturale ecco io penso che è importante quello che sottolineavi con forza il come andare in questo continente il come metterci in ascolto nel rispetto profondo di culture culture millenarie con una sapienza loro guardate che ogni cultura ha le sue cose belle le sue cose brutte ma ci sono delle cose splendide in queste in queste in questa in questa Africa guardate che io sono profondamente dopo 12 anni a Corococcio vivendo gomito gomito con questa gente incredibile la ricchezza che io ho ricevuto da loro quindi è con questo spirito mi sembra importante ecco questa domanda guardate che e qui penso che dobbiamo seriamente io non ho problemi ad assumere il problema anche semplicissimamente di missione che dobbiamo sinceramente guardarci attorno il clericalismo che ci portiamo dentro come missionari ma soprattutto ancora molto il disprezzo verso culture verso civiltà che sono altre dalla nostra verso esperienze religiose altre dalle nostre guardate che dobbiamo radicalmente convertirci anche noi come missionari che non vuol dire che io io ritengo per esempio come missionario che la scoperta per me Gesù è stato un grande dono e lo sento come un dono e sento che posso condividerlo con qualcuno che lo accoglie ma nel profondo rispetto dell'altro della sua cultura e qui una parolina importante a livello di occidente parlo di chiesa occidentale adesso guardate che troviamo difficilissimo ancora come occidente mollare il nostro senso di essere la chiesa ma finiamola ma guardate che l'Africa proprio che come sono come abbiamo una chiesa d'occidente e d'oriente e la chiesa d'oriente ha una sua liturgia una sua teologia un suo diritto canonico ma altrettanto popolazioni come quelle africane hanno diritto ricevendo un dono Gesù di ripensarlo come noi l'abbiamo pensato con le categorie greco-romane loro con le loro categorie hanno diritto a una loro liturgia non dimenticherò mai le parole cardinal Thiantum allora cardinale morto l'anno scorso di Dakar quando il sinodo qui sull'Africa ha detto noi non chiediamo le lemosi alla chiesa d'occidente di una nostra liturgia ne abbiamo diritto l'Africa ha un diritto a una sua teologia ha un suo diritto canonico altrimenti è imperialismo religioso quello che imponiamo guardate che fondamentale questo discorso ed è tutto il discorso fra l'altro dell'inculturazione che è fondamentale ma è fondamentale in questo e qui capite allora tutto quel discorso che si faceva anche prima e lo riprendo proprio in chiave anche missionaria con la profonda domanda davvero di conversione di cui abbiamo bisogno è in questo senso che io volevo soprattutto accentuare alcuni aspetti sono già passati quasi mamma mia cerco di essere breve notate permettetemi alcune cosettine un paio di cose fondamentali Italia Africa Europa Africa poi se riesco due tre cosettine brevi come conclusione prima di tutto notate il binomio Italia Africa vi ho già parlato del colonialismo italiano prendetevi del bocca su un cinque volumi ne avete abbastanza per capire quello che abbiamo combinato notate ma solo perdonatemi per favore ma come fate come italiani a ritornare per esempio in Somalia con le nostre truppe quello che è avvenuto dopo l'operazione Restore Hope americana a ritornare con i soldati dopo che siamo stati non soltanto una potenza coloniale ma che abbiamo rovinato la Somalia con i socialisti di Craxi guardate non avete l'idea della corruzione corrotti loro corrottosi a bar che cosa non abbiamo fatto in Somalia sono queste le cose che dobbiamo finalmente dirci in Italia con coraggio guardando in faccia gli errori che abbiamo commesso guardate che l'Italia del anni 70 80 che ha cercato la via della cooperazione ma finiamola quindi parlare di cooperazione ma guardate che facciamo abbiamo fatto gli interessi nostri io sono grato di una cosa Berlusconi che su una cosa almeno ha detto la verità quando ho diventato ministro degli esteri ha detto io non sono venuto al ministero esteri per fare le mosi non per fare sono venuto per fare affari di fatti si chiama il ministero degli affari esteri abbiamo sempre fatto affari Andreotti se li abbiamo fatti tutti gli affari Berlusconi ci ha detto che li ha fatti gli affari li voleva fare guardate che il ministero degli affari serve a fare affari smettiamola di parlare di cooperazione viste anche in questi giorni non parliamo ma ve le tiro guardate provate a pensare ai 1900 io mi sono incasinato dentro volevano portarmi a tutte le parti in tribunale semplicemente quando abbiamo sparato in quei 1900 miliardi che volevano per la lotta contro la fame nel mondo e la legge dell'85 abbiamo detto ma si tratta della fame degli africani o della fame dei nostri partiti italiani che sono talmente affamati di soldi che usano anche questo e di fatti è quello che è avvenuto fame dei nostri partiti e se sono spartiti per bene quei soldi quell'editoriale il volto italiano della fame africana ha suscito praticamente guardate con quell'editoriale se i magistrati da allora non erano liberi purtroppo perché legati anche allora a tutto ma l'avessero preso seriamente e avessero investigato avevate tangentopoli già nell'85 era tutto lì ed ecco perché i pasticci che siamo andati a non finire che poi mi hanno portato la mia destituzione ma nasce da qui quindi capite che razza ma soprattutto la politica estera guardate siamo arrivati oggi a un punto che è un punto per me assurdo noi siamo all'ultimo col governo Berlusconi siamo arrivati all'ultimo posto al mondo per contributi di aiuto pubblico ai paesi chiamiamoli impoveriti chiamiamoli così dopo gli Stati Uniti c'è l'Italia 0,14 alto che lo 0,7% che dovremmo dare secondo l'ONU siamo all'ultimo posto e notate che questi soldi pochissimi metà sono usati per l'emissione di pace in Iraq il resto 92% e Oxfam pochi giorni fa l'organizzazione inglese afferma che il 92% dall'aiuto italiano va in un aiuto do udess cioè ti do questi soldi però compri da me cibo compri da me macchinari e questo è il nostro aiuto pubblico guardate che mai come oggi siamo arrivati in basso e per favore non ditemi che l'opposizione sta pensando chissà quali sogni sarebbe ora che anche l'opposizione pensasse facesse un mea culpa per tutto quello che ha fatto anche quando il centro-sinistra era il governo e si incominciasse ad avere una politica politica seria verso l'Africa una politica culturale prima di tutto verso questo continente una seria politica di aiuto non ai governi dell'Africa che corrotti quanto il nostro perché noi non siamo meno corrotti di quelli africani per forno prendiamoci il giro ma guardate che guardate che dobbiamo incominciare davvero da dare una mano a tutti quei nuovi soggetti che stanno sorgendo comunità di base non so io cooperative ma guardate c'è un rifiorire nel sud del mondo anche organizzazioni popolari pensate io penso alla per esempio ai senza terra del Brasile 20 milioni ma sono questi e lo SDI quelli che lottano 8 milioni in India che lottano a favore per esempio dei baraccati e avanti di questo passo sono questi soggetti nuovi da favorire non passando per il ministero estero non passando per i governi ma attraverso De Castero forse sotto la presidenza del Presidente della Repubblica che inglobi lo sforzo globale di un popolo italiano che la base è sano abbiamo tantissimi gruppi che vogliono fare seriamente ma dobbiamo trovare strade nuove per dare una mano e poi una politica che sia politica seria di davvero di favorire certe cose per esempio il problema dei sussidi all'agricoltura sono tutte questioni fondamentali che dobbiamo incominciare a porci guardate la stessa cosa vale per l'Europa mi spiace dirlo ma anche l'Europa guardate per favore guardate che quei due referendum francese olandese comunque no a quella costituzione siamo stare delle deste che hanno votato come hanno votato ma guardate che c'è tantissima gente che è molto preoccupata perché l'Europa non sta decollando come dovrebbe è l'Europa dei mercati non è l'Europa dei popoli è l'Europa dei mercati è interessato soltanto ai mercati nel sud del mondo ed è quello che stiamo vedendo in Africa guardate che è pauroso io so da fonte missionarie per esempio e qui entra il problema acqua che è enorme e ho finito guardate il problema enorme che c'è che cos'è in poche parole ve lo esprimo così notate che quando per esempio un governo africano chiedeva alla commissione europea un aiuto un contratto qualcosa la commissione ti do questi soldi purché tu ceda alla tal multinazionale la Vivendi la Suez quel che volete voi le fonti idriche del tuo paese guardate che è questo il giro l'acqua guardate che l'acqua è il bene se oggi combattete le guerre per il petrolio domani le combatteremo per l'acqua con molta più ferocia senza petrolio potete vivere senza acqua non possiamo vivere la banca mondiale ha già calcolato che si tratta di mille miliardi di dollari di acqua potabile che abbiamo equivalente al petrolio persa poco per la banca mondiale i depositi che abbiamo su questo guardate il dramma sarà che andando avanti non ci sarà più acqua meglio non ci sarà più acqua diminuerà moltissimo perché con l'incremento effetto serra minimo che crescerà la temperatura è di due gradi ormai gli scienziati lo ammettono potrebbe essere fino a 6 centigradi basta 1.5 centigradi per far saltare polo nord polo sud ghiacciai ne vai cominciate a capire subito come ci saltano le fonti idriche e capite il perché le multinazionali qui capite il gioco è questo guardate che se voi oggi avete 50 milioni di persone che muoiono di fame domani avrete 100 milioni di persone che muoiono di sete se voi lasciate le multinazionali e mettere le mani sull'acqua questa è la conseguenza i poveri 3 miliardi di persone che vivono con meno di 2 euro al giorno chi potrà comperarsi questa rama è la morte allora capite quello che io ho detto ai parlamentari europei quando sono andato una settimana scorsa con Petrella eccetera a Strasburgo ho detto loro guardate che se voi quel giorno che parlate e si sta andando per favore a Hong Kong vedo ancora quasi nulla se ne parla a Hong Kong ci sarà l'organizzazione mondiale del commercio il WTO a dicembre dove si tratterà il GATS trattato generale sul commercio dei servizi guardate che se in quei servizi entrano tre paroline acqua sanità scuola è finita per i poveri del mondo ma anche per i nostri poveri io vengo dalla sanità li consegnate così ragazzi la sanità la camorra in mano ma è talmente ovvio guai a noi se permetteremo di quelle tre paroline di entrare in quella roba abbiamo soltanto due mesi in avanti per favore dovremmo essere tutti sulle piazze a gritarle queste cose mentre ci lasciamo perfino rubare l'acqua io sto lottando a Napoli contro la Iervolino contro Bassolino contro Di Palma centro-sinistra per favore che vogliono privatizzare l'acqua ma siamo matti cioè questa è l'assurdità in cui ci stiamo cacciando ecco da qui capite come ormai io sono stufo di destra e di sinistra voglio parlare ai cittadini voglio che ognuno di noi capisca il dramma che stiamo vivendo non solo i poveri ma tutti noi e che dobbiamo essenzialmente ribellarci a tutto questo e incominciare a reagire se non reagiremo guardate non abbiamo futuro finisco per favore guardate che l'altro processo incredibile dell'Europa è la stessa cosa io vengo dal sud adesso e capisco come abbiamo usato il sud prima come mano d'opera a basso prezzo poi quando eravamo stufi della mano d'opera a basso prezzo abbiamo trasportato le industrie che non servivano più e che dopo alcuni anni abbiamo chiuso intanto il capitale si è tirato i bei proventi dello stato e adesso sono chiusi andate a bagnole a vedere i disastri che abbiamo combinato ma in tutto il sud notate la stessa cosa l'Europa la sta facendo con il Nord Africa il processo di Barcellona primo mano d'opera a basso prezzo noi in Italia che ne dica la Lega tutto quel che volete voi guardate che abbiamo bisogno di un milione di persone all'anno nuove come mano d'opera per far andare le nostre industrie eccetera le faremo venire da Nord Africa controllate secondo scopo semplicissimo così ammorbideremo i musulmani ritorneranno ammorbiditi questa è la logica dell'Europa non può essere questa la logica non c'è logica dei mercati se noi ragioneremo in tema di mercati guardate che non avremo futuro ci sgozzeremo tutti vicendevolmente o nasce qualcosa di nuovo qui davvero il mio appello è ritorno davvero su queste tematiche dinamiche del rispetto dell'altro della cultura di quello che e se mi permettete io volevo soltanto concludere con un episodio siccome questa gente guardate la paga con la vita questo è Pierre Claverin vescovo di Oran che ha deciso di rimanere in un contesto incredibile della guerra civile in Algeria di rimanere sapendo di essere minacciato 96 lui e il suo autista Mohammed quando sono tornati da Algeri sono entrati nella casetta che ha schiacciato il bottone per accendere la luce c'era appesa una bomba è saltato per aria lui e Mohammed l'anno prima di morire aveva raccontato la sua esperienza lui era nativo dell'Algeria Pier Claverin e della sua esperienza di vita al Club di Marsiglia dicendo questo da questa esperienza di chiusura poi di crisi in fine dell'affermarsi dell'individuo trago la convinzione personale che non vi è umanità se non al plurale e che dal momento in cui pretendiamo nella Chiesa Cattolica ne abbiamo fatto nel corso dei secoli una triste esperienza quando pretendiamo di possedere la verità o di parlare in nome dell'umanità cadiamo nel totalitarismo e nell'esclusione nessuno possiede la verità ognuno la ricerca ci sono sicuramente verità oggettive che però vanno al di là di tutti noi alle quali non si può accedere che attraverso un lungo cammino ricomponendo gradualmente queste verità spigolando nelle altre culture nelle altri tipi di umanità in ciò che gli altri hanno acquisito hanno cercato nel loro particolare cammino verso la verità io sono credente credo che c'è un Dio ma non ho la pretesa di possedere questo Dio né attraverso Gesù che me lo rivela né attraverso i dogmi della mia fede non si possiede Dio non si possiede la verità e io ho bisogno della verità degli altri che questa sete profonda della verità ma della verità dell'altro degli altri di altre esperienze religiose di altre culture sia la sete che davvero nutriamo dentro perché possa nascere un nuovo un uomo nuovo quello che Balducci chiamava l'uomo planetario se questo nascerà c'è speranza ecco quello il salto antropologico che ci viene richiesto a tutti noi chiamoci da fare perché vinca la vita e grazie a voi grazie 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 a tutti grazie a tutti